A casa di mia mamma, in soffitta, c'è una grande scatola. È piena zeppa di pellicole. Oggi ho trovato il coraggio di aprirla. Cosa ci facciamo qua, papà? Allora, ti spiego. Ti ricordi da bambino, nel corridoio della nonna, quando andavi come un matto con la tua macchinina a pedali? Te lo ricordi? Sì, sì, mi ricordo, ho anche distrutto dei muri. Eh, appunto, ecco. Siamo qui proprio per quel motivo lì. Attenzione, ti sto facendo un grandissimo regalo. Fanno il tesoro. Chiesa nel numero uno. Ehi, Michi, dove credi di andare? Guarda che c'è. Ciao, fenomeno. Oggi non si fa lo scudo, eh? Sei pronto ad affrontare la Formula 3? Uè, fettinato, ma che ragazzo qui è campione. Quanti soldi ci vogliono per correre un Formula 1? Quattro milioni. Ok, siamo in Formula 1. Grazie per la visione!